Quando le strade sono in ostaggio del male... Una bomba! Cane Greg! La sirena! Due dei migliori in città... ...devono unire le forze. Verde! Rosso! Verde! Aspetta, i cani non sono daltonici? Ed essere inseparabili. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? Ottima idea! Dogman! Il superpoliziotto. Fa amicizia, risolve reati... ...e suona perfino il piano per gli anziani. Mi ha stufato questo Dogman! È ora di fermare il superpoliziotto! Non rovinerai il mio malefico piano che è distruggere i benefattori! Ma quanto può essere cattivo un gatto? Molto cattivo! Dogman, ascolta! Tu sei l'unico che può fermarlo! Con la tua abilità nel Kung Fu, la Tempra Canina e quant'altro! Non c'è tempo da perdere! Smettila! Basta! Basta! Te ne vai da qui? Vai ad arrestare Petey! E non mi interessa se serve un montaggio! Spreggersi! Oh, Dogman! Dogman! Ora è solo un compito! Tenere gli occhi su quei monitor! Quindi se qualcuno tira fuori il tuo giochino preferito e te lo fa vedere... Tu... Tu guardi i monitor! E se qualcuno per caso ha uno scogliattolo grigio orientale... Tu... Tu guardi i monitor! Perchè mi devi sempre leccare... ...l'interno della bocca! Perchè mi devi sempre leccare...